Benvenuti nel nostro video tutorial. Le nostre pettoline economiche sono un articolo di basso prezzo, ma come potete vedere anche di ottima fattura, disponibili in svariati colorazioni. Sono particolarmente indicate per manifestazione e distanziamento. Questa pettolina è prodotta con un tessuto non tessuto, molto resistente e lateralmente ha degli elastici anch'essi molto resistenti, che le donano la possibilità di avere una vestibilità molto ampia, dalle taglie Small e XY. Questo prodotto copre interamente il gusto della persona che la indossa, sia davanti che dietro. Per ora è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo video tutorial, dove vi presenteremo questo articolo personalizzato col vostro marchio.